Si è tenuto questa mattina presso l'auditorium della parrocchia Sacri Curi di Gesù e Maria a Portici il convegno contro la violenza di genere dal titolo Rispetto per la donna. Al dibattito moderato dal giornalista Salvatore Perillo hanno partecipato le classi dell'istituto Carlo Levi, una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, forze dell'ordine ed esperti per riflettere e sensibilizzare le giovani generazioni a rispetto dell'altro. Una bella occasione per testimoniare anche il nostro no a ogni forma di violenza, ogni forma di discriminazione, per dire anche forte il nostro sì all'attenzione invece alla sensibilità delle donne che ovviamente non deve essere circoscritta e relativa solo ad oggi ma a tutti i giorni dell'anno. Ci siamo riuniti qui per trasmettere un messaggio a tutti, agli alunni ma agli operatori in generale, un messaggio basato soprattutto sul rispetto dell'altro, quindi il rispetto della persona, il rispetto della donna, perché crediamo fermamente che la scuola sia uno dei luoghi principali della cultura e dove si possa trasmettere proprio la cultura della legalità e quindi anche la cultura del rispetto. Questa è una giornata in cui non si deve semplicemente ricordare, bisogna cercare di lasciare, di seminare, di lasciare un qualcosa per continuare la lotta per l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna. È una giornata che non deve essere assolutamente né evocativa né anche celebrativa ma deve essere soprattutto una profonda riflessione partendo dai numeri. 104 vittime di violenza solo quest'anno e l'anno non è ancora finito, dico purtroppo perché vorremmo sperare che questi numeri, 104, quelli che abbiamo avuto quest'anno non vorremmo mai raccontarli. La nostra amministrazione ha voluto pubblicare una brochure informativa in cui ci stanno delle domande e delle risposte per consentire a tutte le donne che hanno subito violenza di poter denunciare e di poter trovare collaborazione, aiuto e supporto da parte di tutte le istituzioni, dalle forze dell'ordine ai servizi sociali di un comune. Ed è bello ricordare che le battaglie che le donne hanno fatto negli anni hanno avuto dei riconoscimenti forti. Portici a una casa di rifugio per le donne che devono scappare dalla violenza intitolata a una donna che ha fatto delle grandi battaglie a Portici. La casa si chiama Donna Elvira e Elvira era Elvira De Vincenzo, una delle prime consiglieri comunali che abbiamo avuto di genere a Portici. E poi sono seguite tantissimi altri rappresentanti nelle istituzioni. Io credo che sia fondamentale che questo tema venga trattato soprattutto dagli uomini perché probabilmente siamo noi quelli che dobbiamo necessariamente cambiare un modello culturale, un retaggio diciamo anche storico che in qualche modo ci mette in una condizione di non comprendere appieno il senso vero di questa giornata. La violenza contro le donne purtroppo è anche psicologica ed economica ed è questo che dobbiamo combattere. Per quanto il legislatore negli ultimi anni sia con l'introduzione dello stalking che è del Codice Russo ha fatto dei grossi passi avanti per tutelare giuridicamente qualsiasi donna e qualsiasi maltrattamento. Per quanto con l'amministrazione comunale anche qui a Portici noi con il centro antiviolenza riusciamo a tutelare con i nostri strumenti le donne che vogliono denunciare. Le vere battaglie sono nelle scuole, è quello di far cambiare la mentalità perché la mentalità di un trentenne non la cambia, ma la mentalità di un giovane la possiamo ancora cambiare. L'arma dei Carabinieri è impegnata ormai da anni in un importante progetto con tutte le scuole che si chiama Cultura della Legalità, dove rappresentanti dell'arma tipo me devono incontrare i ragazzi proprio per parlare delle tematiche più importanti che possono riguardare i temi legati alla legalità e la violenza di genere è uno di questi temi ed è forse il principale. L'arma dei Carabinieri deve essere in grado di poter conoscere quello che succede all'interno delle mura domestiche e sicuramente il punto di partenza è nel cercare di convincere le persone di trovare delle persone pronte ad ascoltare, in questo caso sono i militari dell'arma dei Carabinieri, per cercare di risolvere le loro problematiche intrafamiliari. Per i giovani è la questione che è importante che loro capiscano che non si può sottovalutare nessuna forma di mancanza di rispetto e una di queste è soprattutto la violenza nei confronti delle donne e del genere in particolare. Dobbiamo fare anche noi la nostra riflessione anche di richiesta di scuse e di perdono per aver inevitabilmente contribuito a una visione culturale fortemente patriarcale e maschilista e di questo ne siamo consapevoli, il rinnovamento della Chiesa con l'aiuto anche di Papa Francesco ci aiuta a riflettere sul ruolo particolare, importante della donna all'interno della società e anche della vita della Chiesa. Il pensiero in questa giornata di riflessione e di impegno, soprattutto di impegno, va a quelle donne che non ci sono più, che non ce l'hanno fatta e che hanno pagato con la vita il loro essere donne nel loro essere madre, a Teresa Bonocore che era una nostra concittadina che è stata ammazzata in modo barbaro per aver difeso la propria figlia va a tutte le donne ancora oggi che combattono in Iran per essere libere di autodeterminarsi e di decidere la vita da fare, il nostro pensiero va a tutte quelle donne che ci hanno insegnato ad essere donne e ad avere la parità dei diritti come un obiettivo, come un punto di riferimento in cui si è impegnata proprio la propria vita, la propria professione e la propria, come dire, lo svolgimento del proprio percorso umano e professionale.